La sostenibilità e armonia per il pianeta. Un titolo assai significativo di questo incontro in cui BCC di San Marzano di San Giuseppe vuole tracciare certamente un bilancio finanziario relativamente al 2019, ma vanno considerati anche gli aspetti relativi alla sostenibilità etica, ambientale, sociale, tutti i temi per i quali BCC si è spessa nel 2019. Infatti questa sera l'obiettivo è proprio questo, quello di andare oltre i numeri. Noi spiegheremo in maniera comprensibile, quindi non solo per addetti ai lavori, ma in modo tale che possa essere compreso anche dal gronde pubblico, che cosa può fare una banca di territorio per lo sviluppo dell'area geografica in cui insiste, ma di uno sviluppo che non si limiti a bruciare, a consumare risorse, ma sia uno sviluppo sostenibile. E lo faremo anche dando l'esempio della stessa banca. Che cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto nel 2019? Alcuni esempi molto semplici ma significativi. Abbiamo installato per esempio nelle nostre strutture due microgeneratori che trasformano il gas in energia elettrica con un risparmio del 50% dell'energia. La nostra banca è completamente free dal punto di vista della plastica, utilizziamo tutti i materiali, quindi carta, toner, eccetera, che sono riciclabili. Abbiamo voluto intraprendere personalmente una strada green come sviluppo. Lo esponiamo stasera perché possa servire come esempio e nello stesso momento vogliamo cercare di capire quanto il territorio ci potrà seguire su questa strada. Professor Francesco Lenoci, una scelta quella della BCC, importante, coraggiosa, puntare anche sugli aspetti ambientali, etici e non sulla fredda logica dei numeri, della finanza. Sì, una scelta vincente. Parlo di behind the figures, cioè le cifre sono importanti per carità di Dio. Se hai dei numeri importanti puoi fare certi investimenti, ma è tutto il resto che conta. Per una banca, ad esempio, la reputazione è un valore enorme. La reputazione una banca se la crea facendo queste cose, essendo esempio su queste cose. Se un'azienda non è sostenibile oggi, non è un problema di poco conto, significa uscire dal mercato. Se un'azienda è sostenibile, farò l'esempio di un esempio virtuoso, farò l'esempio di Andriani. Andriani fa Felicia. Uno dei problemi mostruosi che ha il mondo è la celiachia. Il numero delle persone che hanno quella malattia è enorme. Loro fanno la pasta senza glutine e facendo quella cosa lì vanno incontro a esigenze vere e fanno un fatturato enorme, con possibilità di crescite fantastiche. La sostenibilità non è solo una scelta etica, è una condizione sine qua non per avere successo come impresa. Siamo con il dottor Giuseppe Di Vittorio, economista e giornalista economico. Una sfida, quella di BCC, che vuole legarsi al territorio perché ovviamente percorrere, seguire un percorso etico legato all'ambiente, legato alle problematiche sociali, crea ovviamente un rapporto profondo, intimo con il territorio. Sì, sicuramente la BCC poi è favorita, nel senso che come statuto avere una BCC che non è sociale o non è socialmente responsabile sarebbe quasi un ossimero. Quindi io spero che nel loro bilancio, io l'ho letto, ci sono tanti punti e spunti che portano alla sostenibilità. Certo non bisogna scappare dal problema, cioè parlare di sostenibilità a Taranto sembra quasi una sfida, è una sfida epocale. Tenendo conto che la sostenibilità, nelle altre parti del paese o del mondo, sono andati molto più avanti. Sostenibilità non vuol dire solo rispetto dell'ambiente, ma vuol dire rispettare anche i dipendenti, trattarli in un certo modo, garantire un welfare, vuol dire una remunerazione dei manager non troppo disaliniata da quella delle altre fasce, delle altre attività produttive, vuol dire i fornitori pagarli puntualmente, quindi vuol dire essere socialmente responsabili. La denominazione esatta è SG, quindi ambiente sociale e governance, quindi tre cose. Quindi un significato molto più ampio e una moda, va detto. Se vuoi la mia esperienza, ti posso dire che convivono delle cose che sono sostenibili con delle cose anche che sono palesemente insostenibili nel mondo, si ha sempre la sensazione che da un momento all'altro le cose insostenibili possono scoppiare, in realtà, come spesso l'esperienza di Taranto racconta, poi alla fine le cose insostenibili tendono a non scoppiare. Fabiano Marti, vice sindaco di Taranto. Questa iniziativa della BCC di San Marzano di San Giuseppe, ossia puntare sulla sostenibilità, si colloca in un'ottica di sviluppo integrato del territorio perché il territorio ha bisogno di vari attori che realizzino la sostenibilità. Ci sono gli enti istituzionalmente preposti come il Comune, ma ci sono anche dei soggetti come le banche che hanno un ruolo preponderante in questa ottica di sostenibilità. Sì, è un modello integrato a cui stiamo lavorando tutti i giorni, come molti sanno abbiamo sottoscritto questo protocollo con l'Asvis, abbiamo avuto una serie di incontri, abbiamo questo progetto ecosistema Taranto che di sostenibilità al suo interno ce n'ha tanta. Quando mi hanno chiamato per questa cosa, quando siamo stati coinvolti in questo progetto, siamo stati felici perché questo progetto, soprattutto stimolato da un privato e soprattutto da un privato così importante. Che opera sul territorio, una banca legata al territorio. Ci fa stare molto più sereni perché vuol dire che questo progetto sulla sostenibilità, sullo sviluppo sostenibile è un progetto che è stato compreso e che ha degli stimoli anche esterni. Noi continuiamo tutti i giorni con Asvis a lavorare, non soltanto con Asvis, lavoriamo perché dobbiamo lavorare per scalare le classifiche e per rendere più possibile il progetto ecosistema Taranto che di sviluppo sostenibile parla tanto, renderlo più pratico. Dobbiamo lavorare a 360 gradi su questo, ci stiamo lavorando ogni giorno, proprio domani abbiamo l'ennesima riunione proprio con Asvis per parlare anche del festival dello sviluppo sostenibile che quest'anno d'accordo con Asvis farà tappa a Taranto, quindi insomma siamo sul pezzo.